Netta vittoria esterna dell'Anderlecht contro la formazione norvegese del Birne. Ecco il gol di Van der Eiken nel primo tempo, 32esimo, vince e va in vantaggio la squadra belga, il club Anderlecht-Oise con la sua maglia viola. E' molto bravo Gudjundson, lo vedete il numero 4 biondo che entra in quasi tutte le azioni, qui è l'autore del raddoppio, gol personale, anche qui crea gli sviluppi di un'azione vicinissima al gol e ancora lo vediamo impostare nella fase appunto di impostazione della manovra per il terzo gol dell'Anderlecht in Norvegia. Eccolo, Gudjundson è entrato in tutte le azioni. Eccolo ancora lui che imposta dove ha realizzato il secondo gol, quello suo personale, imposta per il gol di Van den Berghe, 3 a 0 dell'Anderlecht. Rivediamo ancora l'azione. Netta e facile.